Kengo è una community innovativa della sharing economy nel settore del trasporto che mette in contatto utenti come negozi aziende privati e mondo dell'e commerce con persone che con qualsiasi mezzo bici moto macchina o furgone mettono a disposizione il loro tempo per consegnare pacchi buste bancali in poche ore in tutta italia e in qualsiasi giorno ed orario della settimana marco deve spostarsi per lavoro da padova a bologna verifica nel suo tablet tramite l'app can go le richieste del momento dettagliate con foto distanza e calcolo automatico del prezzo nello stesso momento giulia impiegata non trova un corriere in grado di fare una consegna immediata per l'azienda in cui lavora servizio che comunque le costerebbe una follia allora si rivolge a can go che è in grado di risolvere il problema analizza diverse soluzioni offerte dai can go occasionali e professionisti tempi di consegna e feedback ora decide di confermare il servizio a marco marco si adopera per svolgere l'incarico nel tempo prestabilito alla consegna del pacco basterà inviare a giulia una foto dell'avvenuta consegna per ricevere il feedback e il rimborso spesso can go accorcia le distanze e avvicina le persone aiutaci a renderlo possibile partecipando al crow fondi di cam go fondi di cam go fondi del cam go Grazie a tutti.